Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in Viale Ionio, San Vito e abbiamo notato, girando qua e là per i vari servizi, che dei cittadini di buona volontà hanno creato una piccola aiula con degli oleandri. Una cosa positiva per favorire il verde e anche per combattere e contrastare il fenomeno delle discariche. Irene Lamanna, presidente di ATT, associazione Taranto Turismo. Sì, effettivamente abbiamo scoperto questa iniziativa, suppongo, da ciò che è stato utilizzato assolutamente di privati. D'altronde una fantastica idea, ovvero quella di arginare il problema delle discariche occupando le vecchie postazioni dei cassonetti dell'Amiu con del verde, delle aiuole e degli oleandri. E effettivamente pare che in questi giorni almeno ci sia stato il rispetto della pianta e quindi non ci siano avvenuti scarichi di pacchi, di ingombranti e di altro che però abbiamo visto dislocati sulla strada. Però la mia domanda è come mai ci hanno pensato dei residenti che non sappiamo chi sono anonimi e quindi noi ringraziamo. Però una fantastica idea, magari con l'intervento del Comune sarebbe potuta venire una cosa migliore. Ma d'altronde l'amministrazione comunale non se ne accorge di nulla, forse neanche esiste. E va detto per esempio, ma d'altronde politicamente parlando, amministrativamente, cosa con la C minuscola ci si può aspettare dallo noce? Che cosa? Beh, giusta precisazione sulla C minuscola di cosa. Effettivamente questa è un'opera di urbanizzazione la cui idea sarebbe dovuta partire dall'ufficio patrimonio e dai lavori pubblici. Quindi diciamo che potrebbe prendere spunto da questa fantastica idea degli anonimi cittadini che chissà, magari di notte si sono adoperati per fare tutto sommato, per aggraziare questa zona. Signori amministratori, andate a scuola in senso metaforico, imparate l'amore per la città dai cittadini che a loro spese, con i loro mezzi, hanno creato questa iola di civiltà. Meditate, amministratori, meditate.